Cari lettori la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo sulla storia di un autore affermato e di una giovane aspirante scrittrice che si innamorano intensamente non appena si incontrano ma c'è un ostacolo. Il libro affronta temi come l'amore non corrisposto, il potere delle parole e il senso di vuoto e di perdita nella vita. Esplora anche la natura complessa delle relazioni e la difficoltà di comunicare i nostri veri sentimenti agli altri. Il libro invita il lettore a riflettere sul potere dell'amore, della scrittura e della comunicazione, e sulle conseguenze delle nostre azioni e delle nostre mancanze nella vita degli altri. La trama del libro Lettera d'amore ed assenza della scrittrice Sarai Shavit, pubblicato dalla casa editrice Neri Pozza, è la seguente. Un autore affermato. Una giovane aspirante scrittrice. Una storia d'amore che divampa immediatamente e brucia in un istante. Lui è sposato, e sua moglie aspetta un bambino. Lei lo ama, crede che lui l'aiuterà a crescere nella vita, come scrittrice. Parlano di letteratura, delle madri che non ci sono più, del vuoto che hanno lasciato, di ciò che manca alle loro esistenze. Anche se forse ciò che lei ama davvero è l'immagine di lui. E quando se ne accorge è troppo tardi, ora è lui a desiderarla davvero, a schiacciarla con il suo potere, con la forza delle sue parole. Con quell'arte oratoria che dà il titolo a uno dei suoi romanzi, che cominciano sempre con una tragedia e finiscono con la compassione. Vent'anni dopo, la scrittrice si imbatte di nuovo nello scrittore durante una conferenza. E non può fare altro che mettersi a scrivere, rievocando il loro amore in una lunga lettera, una lettera che lui non leggerà mai. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.